indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna quando è stata istituita cosa prevede la normativa e quali sono i vantaggi risponderà queste domande l'agronomo massimo timini che ci racconterà anche l'esperienza della latteria sociale valtellina buongiorno sono massimo timini dottore agronomo ho operato per 35 anni presso l'associazione provinciale allevatori di sondrio e per gli ultimi due anni presso l'associazione regionale allevatori della lombardia e ho lavorato nell'ambito della consulenza alle aziende agricole bovine da latte della montagna operando appunto in un ambiente completamente montano. Come è stata istituita l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna e qual è la normativa che la disciplina? In questi ultimi anni mi sono trovato anche a confrontarmi con questa novità dell'introduzione della indicazione facoltativa prodotto di montagna che è stata oggetto di un regolamento dell'unione europea del 2012 a fronte di un lavoro di ricognizione per i paesi membri sulle esigenze che venivano dai territori montani ovviamente per quanto riguarda i prodotti agricoli e recepita anche da noi fino a arrivare anche nel 2018 all'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole forestali di uno specifico logo a disposizione di chi appunto questa indicazione sottolineo facoltativa ne vuole fare uso Qual è la motivazione che ha spinto il legislatore a istituire questa indicazione facoltativa di qualità? All'origine di questo ovviamente c'è il fatto di offrire un orientamento immediato al consumatore su quello che è il prodotto ha voluto costruito in montagna e questo perché esiste un orientamento specifico da parte del consumatore stesso verso questo tipo di produzione riconosciuta con una specificità particolare e anche molto gradita Cosa devono fare i produttori che vogliono aderire a questa indicazione facoltativa di qualità? Non ci sono molte complicazioni per chi vuole aderire è un'indicazione facoltativa quindi il produttore si iscrive in un registro regionale specifico chiaramente dichiarando di ottemperare a delle semplici normative che sono presenti appunto nel regolamento dell'Unione Europea e poi a essere disponibile ad assoggettarsi ai relativi controlli che possono essere effettuati da una serie di entità che vanno dalle autorità sanitarie dai carabini forestali all'antifrode a tutti quelli che hanno la possibilità di intervenire su quello che è la veridicità delle dichiarazioni in termini di appunto di produzioni e di messa al consumo di produzioni agricole e chiaramente lo scopo e l'utilità è quella appunto di arrivare al grande pubblico del consumatore con un'indicazione come si diceva prima molto chiara e diretta che riporti a quello che effettivamente è una suggestione che è il territorio montano, che è il territorio naturale che l'estensivizzazione dell'agricoltura porta con sé Quali prodotti può essere applicata a questa indicazione facoltativa di qualità? Intanto il prodotto deve essere prodotto all'interno dei territori conosciuti come montani ai sensi di quello che sono le normative dell'Istat e nel caso del latte di cui specificamente mi occupo io e me ne sono occupato assieme alla Ratteria Sociale Valtellina che è stata una delle prime a recepire questo discorso si tratta di ottenere prodotti lattiero caseari fatti da latte prodotto, scusate la ripetizione da bovini, bovine che hanno fatto almeno gli ultimi due terzi della propria vita in territorio montano alimentate con almeno il 60% della sostanza secca prodotto in territori montani la sostanza secca è l'alimento senza il contenuto di umidità che normalmente si porta dietro e questo è un parametro quindi sono delle cose piuttosto semplici sembrerebbero banali ma così non sono perché come sappiamo la zootecnia ha preso anche un suo percorso produttivistico di intensivizzazione che in molti casi ha portato anche a distaccare l'allevamento dal territorio quel parametro lì cioè sulla razione quotidiana della bovina da latte assicurare un 60% di sostanza secca da territori montani che significa di fatto la parte, la componente foraggera dell'alimentazione vuol dire ricondurre l'allevamento a un rapporto con il territorio molto più stretto e anche quello che appunto il consumatore si aspetta quindi queste sono cose semplici ma non scontate Andiamo a Delebio in provincia di Sondrio qui a sede della Latteria Sociale Valtellina Qual è la sua esperienza in merito all'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna? Il percorso fatto nell'esempio che facevo prima della Latteria Sociale Valtellina è stato proprio quello di darsi un regolamento istituendo un gruppo di lavoro interno fatto da personale della cooperativa ma anche ovviamente dai soci della cooperativa quindi da allevatori con anche il supporto nostro come consulenti che ha portato già da qualche anno la stesura di un regolamento interno che prevedesse l'adesione al regolamento del prodotto di montagna indicazione facoltativa del prodotto di montagna al fatto di prima ancora che così precedendo un po' quello che è stato un percorso che ormai doverosamente stanno facendo tutti assicurare anche uno standard di benessere animale più che adeguato ed anche incentivando la rimonta interna ovvero il fatto di allevare i soggetti farli nascere e crescere direttamente in allevamento oppure incentivando un mercato interno al territorio tra soci della cooperativa quindi questo è stato il percorso Quali sono i vantaggi legati all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità? Chiaramente appunto un vantaggio di riposizionamento del settore sulla propria area geografica di una corretta comunicazione con il consumatore di un raggiungimento comunque di un ritorno ancora più marcato a quello che sono le caratteristiche organolettiche intrinseche di un prodotto che risente del fatto appunto che l'alimentazione nello specifico è per lo più eseguita con alimenti prodotti sul territorio stesso quindi con quello che si porta dietro in termini di contenuti nutrizionali e quindi chiaramente anche di in questo momento anche di economicamente non semplice di un'affermazione di una imprenditorialità di un continuo riposizionamento su un mercato importante che è quello dei prodotti alimentari e quindi anche il ritorno in una remunerazione più che adeguata per i produttori stessi che poi appunto parlando di cooperativa è diciamo la mission principale quindi diciamo che la prospettiva la strada è assolutamente tracciata ed è già ampiamente percorsa un po' alla volta i prodotti verranno tutti contrassegnati con questa indicazione facoltativa e questo comunque segna una crescita un dialogo proficuo tra appunto cooperativa che trasforma il prodotto e produttori e una comunicazione ripeto il più possibile e doverosamente trasparente con il consumatore che sa appunto scegliendo il prodotto con tale indicazione di riferirsi a una situazione assolutamente non diciamo non di comunicazione esclusivamente così concettuale ma che ha delle forti significatività alle spalle proprio dal punto di vista operativo grazie a tutti grazie a tutti